Musica Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. La blanda depressione del Nord Africa ha ormai abbandonato il nostro paese, spostandosi verso est. Il promontore di alta pressione, annunciato nella scorsa puntata, punta invece il nostro paese, con conseguente ritorno del bel tempo anche se avriva temperature per lo più invernali al mattino e alla sera. Confermato un nuovo peggioramento del tempo nel prossimo weekend. Ma ora andiamo a vedere il tempo sulle nostre due regioni, per mercoledì 16 novembre. Come possiamo notare dalla grafica, splenderà il sole su entrambe le nostre regioni, però in un contesto climatico per lo più invernale. Temperature in riazzio le massime, stazionare le minime, con possibili gelate nelle vallate della Murgia e della Valle d'Itria. Venti deboli e variabili, mari da calmi a poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Ivano Celammare per averci inviato la foto della superluna della scorsa notte, ma è così vicina negli ultimi 68 anni. La vicinanza è dovuta all'instaurarsi di alcune coincidenze. La prima coincidenza è quella del suo passaggio al Perigeo, punto più vicino alla Terra, in fase di plenilunio. In gergo, luna piena. E questo accade ogni anno, ma quello che ha reso speciale questo giorno è che proprio quest'anno la trazione del Sole, stirando l'orbita lunare, ha permesso che il Perigeo fosse più vicino del solito, proprio nel passaggio della Luna. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappola, oppure alle e-mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione, alla prossima puntata. Grazie per la visione!